Stasera poi ci siamo, c'è il 32, Valenti è con noi c'è un cuore, non ce lo fa Chi trovi che palla? Nonpo, noni con il 30, nonostevole con te Ma non hai presentato la giornata di oggi? Odio Ma voglia, devi trovare una con il flash Eh, per il comprando, però mi sa che non aggiungiamo i soldi. Non chiederemo mai, se arriviamo a 100 euro già tra l'altro, non dico quello chiaro. Eh, ovvio, quindi. Ciao, G. Lucica. Ciao, tutto. Merda, tuca. Tuca la vera tu, grazie. Poi c'è la mia ex scuola media, quella bellissima. La merda. Viva la Pietro Leone. Ma sta versando, che moriamo nella Coppa Nostra. Grazie, grazie. Faccio uno, pazzo. Grazie. Faccio un ciao. Lui fa parte del sacco, blocchi e ora, non mi puoi gentile. Sì, sì. Faccio me la posta. La prima persona cadere, comunque, la devo vedere. Le pidei di qua, comunque. Di qua. Aspetta, aspetta. Vabbè, faccio me la posta, Anthony che vende un consigliere. E io non mi faccio sentire un cavallo di una volta. La c'è la mia classe, ragazzi, la famosissima terza è. Ecco la macchina di Nico. Nico vingiuo, ecco. Guarda che emozione, sto aprendo una macchina come se fosse la mia. Vieni qua. Voglio un giro. Vieni qua. Vieni qua. oh c'è quello che c'è appoggiato oh c'è l'altro oh c'è l'altro oh c'è l'altro oh c'è l'altro qui ce l'altro oh c'è l'altro oh c'è l'altro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.